Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per le statali segnaliamo scambio di carreggiata per cantieri su raccordo Siena-Firenze, tra Firenze-Certosa e San Casciano Nord, in direzione di Siena. Siamo al traffico ferroviario tra Diecimo Pescaglia e San Pietro a Vico sulla Lucca-Ulla, ci sono rallentamenti e cancellazioni per un guasto ai sistemi di circolazione dovuto all'incendio di un canneto adiacente alla linea ferroviaria, allestito un servizio di bus sostitutivi. Il traffico in linea procederà con ritardi intorno ai 35 minuti per le prossime ore. In chiusura per il traffico urbano di Firenze e per i cantieri per la tramvia, mercoledì e giovedì sarà chiusa via Corridoni per operazioni di posa dei binari. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana in fa un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Da Agnese e Fedeli l'augurio di una buona serata.